Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Mau, oggi siamo qui in un nuovo gioco della Supercell chiamato Clash Mini è uscito proprio in questi giorni, ragazzolini è proprio un nuovo nuovo questo gioco, ma è uscito in 6 paesi, solamente in tutto il mondo in Italia non è ancora uscito ma ho trovato un modo per portarlo in anteprima, quindi solo per questo vi ricordo di lasciare un like e un'iscrizione mi raccomando nei commenti ditemi che cosa ne pensate di questo nuovo gioco della Supercell che arriverà anche in Italia e in tutto il mondo in uscita globale ma non so quando sarà ancora, accotentiamoci per adesso di questa beta, si perché è una beta del gioco intanto sono già andato avanti, ho sbloccato, ho fatto i tutorial ma adesso andiamo a vedere anche magari in partita intanto io potenzio il mio boss, intanto sono già a livello 2, qua mi dice già di andare a combattere ho già messo il nome, ho già riscattato un po' di roba, quindi ci sta, ok perfetto usa le monete delle challenge per avere oro extra e trofei, perfetto quindi le nuove magari, bisogna un po' vedere come giocare questo gioco ragazzi, è tutto nuovo può essere carino come gioco, vediamo un po', primo duello io mi raccomando ragazzi non so come giocarci ancora perché l'ho appena scaricato quindi se faccio cagare è normale qui abbiamo sedie di zira, abbiamo poco tempo voglio provare a mettere qui e metto un mini pecca qua ragazzi non posso fare niente non c'ho niente da uno, vediamo un po' l'avversario come ha posizionato le carte il mini pecca fa danni attenzione, il mini pecca fa molti danni ho vinto, assolutamente perché l'ho distrutto ragazzi guardate qua che roba mi ha buttato giù il pecca però nessun problema, abbiamo vinto la prima partita andiamo avanti round 2 allora adesso c'ho 7 posso potenziare il maghetto perché da lontano ho più lo spot no è perfetto lì e ci piazzo un archer qua giù io sono a posto, vediamo lui che cosa farà 5, 4, 3, 2, 1 vediamo un po' lui come ha messo le carte vediamo un po' attenzione uh in questo modo l'arciere OP perfetto ha colpito entrambi i mini ha colpito sia il re barbaro che il mini pecca dai 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 ragazzi me la so portata a casa anche questa no ragazzi OP 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 GG GG e siamo a 2 a 0 per me perfetto andiamo avanti mi raccomando ditemi se volete i nuovi video di questo nuovo gioco perché dato che è appena uscito secondo me è una bomba vediamo un po' allora ragazzi secondo me potenzio il pecca che serve assolutamente potenziamento e proverei a mettere la guaritrice ne metto qua così a casissimo non c'ho nient'altro niente a posto aspettiamo vediamo un po' cosa mi ha messo lui anche i goblin anceri anche lui la guaritrice eh raga è dura è dura è dura è dura l'ho giocata male è riuscito a sfondarmi tutto ragazzi peccato peccato poteva essere giocata meglio 2 a 1 per lui cioè per me round 4 raga dobbiamo vedere dobbiamo vedere io potenzio sia questo metto raga ne metto un altro qua anzi abbiamo potenziato questo qua questo qua questo qua questo qua questo qua ok vediamo un po' i tank li ho voluti mettere davanti eh ragazzi va a finire male pure questo o forse no gg bella win mi è piaciuta non l'ho giocata benissimo però mi è piaciuta 3 a 1 per noi abbiamo vinto let's go vittoria mia prima vittoria su questo gioco fantastico vediamo un po' ragazzone vittoria 5 trofei e 5 monetine ok abbiamo fatto anche una sfida quindi ritiriamo il baulozzo vediamo cosa troviamo un nuovo minis oh gigante scheletro bellissimo 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 perfetto già a livello 3 quindi si va di bomba ragazzi eccolo qua quindi potremmo anche shoppare vediamo un po' come allora qua c'abbiamo gli eroi e poi qua c'abbiamo tutti i minis che abbiamo sbloccato poi qua abbiamo lo shop un nuovo verissimo shop forse da qui potremmo comprare i personaggi poi voglio gran cavaliere gg gran cavaliere sbloccato con soldi 750 monete ragazzi mi spiace ma lo volevo la mia carta preferita su royale come non può essere la mia carta preferita qui su minis allora qui abbiamo 5 oggettoni gratis che ci regala il gioco perfetto dietro non ci abbiamo niente possiamo shoppare anche con soldi veri qua abbiamo un mini pass battaglia ci regala un'altra cassa nuovo nuovo minis oh ok perfetto eccolo qua il bocciatore non mi piace molto su royale speriamo che sia meglio qui intanto abbiamo new vediamo un po' questa ok nuove sfide per noi ok mi piace mi piace andiamo sotto andiamo qui voglio vedere dove posso cambiare si ok sono pronto per una nuova avventura ma io vorrei cambiare voglio mettere il gran cavallo ma non al posto di quello così voglio fare possiamo avere anche bellissimo ne affanno uno duello vediamo un po' ditemi se volete altri episodi ve ne porto quanti ne volete ragazzi allora vediamo un po' mettiamo lui qua lui qui il pecca che sta di fianco difensivo stra di fianco e basta a posto vediamo come combattono anche lui c'ha il gran cavaliere ragazzi è dura no vabbè OP il gran cavallo OP ok ragazzi sembra che non vuole eccedere nessuno dei due siamo pari ok forse la mia potrebbe vincere no ha vinto lui ma com'è possibile no vabbè non ci credo ci butto il gran cavaliere ragazzi è l'unica cosa che posso fare perfetto ti prego voglio vincere in questo modo veramente ragazzi 3 2 1 vediamo un po' come ha messi lui speriamo in modo abbastanza buono ok gran cavallo OP perfetto perché ragazzi perché non mi va bene ho perso pure questa non è possibile ragazzi però non va per niente bene una prima sconfitta boh sconfitta e invece no attenzione rimonto tantissimo dai gg e ci portiamo a casa la prima vittoria di questo match ok siamo 1 a 1 ok si inizia a fare molto più intensa la situazione qua mi serve un arciore magico da dietro potenziare sicuramente il pecca e ho finito il desire devo mettere il minatore però dovrei sprecare il desire quindi meglio di no così eh raga così io ci provo come va va andiamo un po' perfetto il magorcer colpisce no 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 non va per niente bene ok il suo gran cavalliere si è andato via ma siamo morti tutti raga mi spiace mannaggia a me ho perso 2 a 1 per lui è troppo difficile questa situazione ragazzi devo ancora giocare devo ancora imparare bene a giocare perché sono le prime armi vediamo un po' eh raga io voglio potenziare però io voglio potenziare non posso più tornare indietro minatore questo dietro ragazzi sto provando un po' ok l'orso è andato dietro vediamo minatore va subito all'attacco da dietro attenzione questa può essere una vittoria una vittoria devastante per il nostro social mahu ecco qua boom vittoria ragazzi vittoria 2 a 2 la partita è riaperta mi raccomando eccoci qua di nuovo ragazzi io voglio provare c'ho solo questo let's go facciamo di vedo alto lo rimetto qua lui avrà cambiato tutto metto il gran capato di qua e questo qua vediamo come va a finire 4 3 2 1 vediamo un po' come va a finire questa partita attenzione ok possiamo essere leggermente in vantaggio siamo in vantaggio e abbiamo vinto ci sta ci sta ci sta ci sta devo ancora imparare a giocare bene 2 vittorie per quest'oggi prima volta che gioco questo gioco davvero fantastico ragazzola di questo video secondo me può finire anche qui ditemi se volete tanti altri video ve ne porto quanti volete l'ho già detto altri 5 coppette 12 di oro abbiamo sbocato anche delle missioni ho completato tutto mamma mia quanta roba che c'è da scoprire è la miseria vabbè mi ho sblocato di tutto sono andati avanti del pass battaglia è la miseria apriamoci tutto possiamo ok ok questo cos'è è strano non ci credo possiamo piano piano sbloccare anche gli altri eroi 2 su 10 per sbloccare la principessa degli arcieri appunto andiamo avanti mi ho sblocato altri 3 token e come ultima ricompensa questo qua andiamo anche questo sembra promettente goblin chair bottaniere per noi bellissimo ed è tutto ciao ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo sempre lasciate un like iscrivetevi se non siete iscritti e noi ci vi chiamo in un prossimo video bella raga ciao 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 ciao